La fotografia e la pittura si uniscono nella mostra realizzata dal gruppo fotografico versiliese insieme agli studenti del liceo artistico Stagio Stagi di Pietrasanta. 46 fotografi per oltre 46 alunni che hanno trasformato, in un anno di lavoro, l'emozione di uno scatto in quella di un dipinto. Una reinterpretazione in chiave pittorica capace di potenziare l'immagine, talvolta con un messaggio in più, del tutto originale, con tecniche artistiche diverse. In tutto sono oltre 90 le opere esposte negli spazi dell'ex farmacia comunale a Porta Lucca che hanno ritrovato così una propria funzione. Questo progetto è nato dall'idea di due soci del gruppo, Stefano Dallelucca e Marcantonio Bartelloni, che hanno contattato l'istituto d'arte Stagio Stagi e hanno detto perché non provare a unire le due arti? Sì, perché poi si sono trovati di fronte a quello che dovranno fare un domani, cioè trovarsi a una mostra, a far vedere i propri lavori, a sentire i commenti, le opinioni e anche a fare un qualcosa di nuovo, perché mettersi lì e cercare un qualcosa in un lavoro di una persona che non conosce, che non sai, è una cosa che li ha stimolati. Sia i ragazzi che gli insegnanti sono rimasti molto soddisfatti. Con il progetto di questa esposizione è stato realizzato un catalogo messo in vendita e il ricavato sarà devoluto in beneficenza al gruppo sportivo Andicappati Toscana. La mostra rimarrà aperta tutti i giorni dalle 16 alle 19 fino a 16 giugno.